Stavate parlando di me? Comunque oggi prova a non ridere challenge, ovviamente vite limitate Oh PewDiePie lo fallo tutti, bam 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 tutte queste persone hanno usato i cuori perché non posso usarli anch'io eh? Perché non posso usare anche i cuori? Perché non posso usare anche i cuori? Sì, non posso usare anche i cuori, ma non posso usare anche i cuori, ma non posso usare anche i cuori, ma non posso usare anche i cuori? Devo ammettere che la scena dove... Quella... quella era carina, ma niente che valesse una risata! Quante volte, anche con mia mamma, oh mamma mia, mai dire a tua madre, mai provando a dire, tua madre ha sempre ragione, prima la regola della mamma, la mamma ha sempre ragione Ma a me? A chi mi stai dicendo? A chi mi stai dicendo? A chi mi stai dicendo? Stai zitto a me, stai zitto Ma che cosa? C'era un gatto che la faccia nel suddere dell'altro Spenchi, spenchi il gatto Ancora sgamato ad annusare le chiappe di altri gatti Altro, l'unico gatto che non si fa di erba gatta Ma si fa di chiappa gatta Come i russianobili italiani Marcello What is it? What are you doing? Holding a pistol? No Mamma mia, Marcello Mamma mia Marcello, te tocco di pistol This is how you hold the pistol Alberto Come look at Marcello Mamma mia Quel viaggetto in Africa Cancellato E' inquietantissimo una giraffa che ti segue Today we are on the trail of the alpha male gorilla In his natural habitat The gym Va bene Oh Oh Ma è più bravo dei gorilla originali Qualcuno lo prenda O se no lui prenderà noi Cavolo Sempre così Mio papà lancia una bomba nucleare sul cane Guardalo Guarda la paura Aspetta Guardatelo 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 Guarda Ha stra paura Guardate l'espressione del cane Ok Ok Ogni nostra puntata di Spider-Man Pugnò così Io che provavo in tutti i modi a star silent Miles silent Uh Forte Noi su Nintendo 3DS Ragazzi confermato Ah vabbè Eh sì Va sempre a finire male Sta roba E vi dicevo Per fortuna che aveva già il collare Se facciamo sentire questo agli alieni quando ci stanno per invadere Tranquilli che Questo pianeta Sempre sostenuto Ha curato Ha curato Ma cosa sono tutti questi squali Mio fratello devi imparare dalle vere animazioni Oh I suoni degli animali con tagli Com'è che face la canzone La mucca fa mu Ma una fa Ascolta il massimo volume Yes Che gioco Genio E' uguale poi Ma che cosa appena Fa bene Pokémon Oh Cosa sto vedendo Detroit become Go beyond Oh 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 Marilu Una bella lezione A little bit of Jessica In the sun A little bit of Vabbè Vabbè Sì A little bit of Gabby In the sun Aspettate ma quello è il sole Come si frega questo coso Ci sta perché avevo fatto quell'intro Tanti tanti anni fa Oh no E' finita la carta igienica No Perché Fortuna che il cane era già marroncino Sì E' perfetto E' perfetto Ok questo video riguarda una ragazza che Parla con il ragazzo E gli manca Ti amo E mi manchi I really I really want you to call me back And I'm sorry I missed your phone call And that I I I know you're done So So when you get this can you call me back I love you And I miss you And I see you Scappa 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 A facendo è mesi Una mucca fa marilu Ma che fanno mu Ragazzi E allora Questa volta è stata dura Guardate con quanto mi avete lasciato Ci è mancato un pelo Qualche risatina lì e là Purtroppo c'è stata Peccato Ma la prossima volta Non mi prenderete Sotto guardia e sotto gamba Comunque per questo episodio Era veramente tutto Avete riso avete perso Non lo so Fatemelo sapere in un commento qui sotto Noi ci becchiamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao